Ma il sole è tu e conquiste, con le tue amiche e anni, sarà la storia di tutti e noi, sono di connesso, di fare di te la squadra che sei, di più e di sognare un grande amore. Il numero 2 è Massimiliano, il numero 1 è Boychek, Giorgio. Il numero è il numero, sono di connesso, di fare di te la squadra che sei, di più e 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti